E dalla lotta a scudetto passiamo invece dalla lotta a salvezza alla corsa a scudetto. La Juventus al momento è la nuova squadra capolista, torna in campo sabato contro l'Empoli. Intanto oggi prime parole bianconere per il nuovo acquisto Tiago Jalò, Alessandra D'Angiò. È sempre derby d'Italia, anche sul mercato. Vidia la voce Tiago Jalò, conteso da Inter e Juventus, il difensore portoghese ha scelto i colori bianconeri, gli stessi indossati dal suo modello Lilian Thuram. Io ho sentito che la Juve mi ha dato un'opportunità grande, io sono molto contento di essere qui perché è un club grande, con molta storia e penso che ho fatto bene di fermare con la Juve. Idee chiare per il portoghese che prima di lasciare il Lil dice non ha chiesto consigli al connazionale più famoso Ronaldo o all'amico UEA con cui ha vinto il campionato in Francia e che ora ritrova in bianconero e nel pieno di un altro duello scudetto. Quindi bisogna fare tutto perché è un campionato difficile, è importante giocare bene tutte le partite e penso che abbiamo qualità per vincere il scudetto. Per la Juve è lui finora l'unico acquisto in questa sessione invernale con un occhio al futuro, senza fretta, considerando che la difensore arriva da un lungo stop a causa infortuni al crociato. Mi sento bene, il mio ginocchio è buono. Primi spezzoni di lavoro con il gruppo, prime indicazioni ricevute da Allegri e tanta voglia di ripartire. Qui abbiamo un campionato più tattico, però io sono pronto per giocare, per imparare.